Buongiorno a tutti sono Manuel Galli, Tecnica Sales Manager per il mercato italiano. Oggi voglio condividere con te la mia posa caffè. Parliamo di Crazy Mean Cool Z4. Come hai già capito dal nome parliamo di una fresa a quattro taglienti dal diametro 1 al diametro 8 con passi anche in pollici. Profondità 2, 3, 4 e 5 volti in diametro che sfrutto veramente bene in qualsiasi applicazione per lavorazioni di acciaio inossidabili, superleghe e titani. Andiamo a vedere varie caratteristiche. Refrigerante attraverso il gambo, grossa quantità di refrigerazione nella zona di lavoro solo dove serve. Nocciolo molto grande nonostante i quattro taglienti che mi permette una perpendicolarità qualora faccio spallamenti eccezionali. E non per ultima rovosità veramente molto basse già di sgrossatura. Ora ti auguro un buon caffè e buon truccelo.